Federico Melchiorio al posto di Maniero e Pucino al centro della difesa in coppia con Ciosic. Dovrebbero essere queste le due ghiotte novità del Pescara anti-Crotone. I biancazzurri sono partiti un giorno prima per la Calabria per preparare al meglio una gara delicata e che il Delfino cercherà di far sua per proseguire la risalita in classifica. A Lezio Scida la squadra di Baroni se la vedrà con un team che non ha iniziato al meglio la stagione. La squadra di Drago in casa è ancora secco di vittorie e questo è un particolare sicuramente da non sottovalutare. Guai a pensare in casa Pescara di una gara in discesa. Quella rosso-blu è una classifica bugiarda come d'altronde quella del Pescara. Nell'undici da opporre ai Pitagorici dovrebbero trovare spazio in formazione anche Grillo e Zampano sugli esterni di difesa. Nielsen a Pelpire e Guana a centrocampo con Melchiorri come dicevamo attaccante centrale e Politano e Pasquato sulle fasce. In panchina si rivedrà Barton Salamon che ha smaltito l'infortunio ma che ovviamente non sarà rischiato almeno dall'inizio. Nel Crotone è recuperato l'ex Modesto, out i nazionali Desi e Balasa. In campo Giuseppe Zampano pronto a sfidare in una sfida tutta familiare il fratello Francesco che gioca in maglia bianca-azzurra. Sono due gare che ci possono permettere di dare continuità ai risultati. La cosa importante è questa, una volta trovata la quadra fare poi infilare magari dei risultati. Questo è il nostro obiettivo ma come il nostro è lo stesso obiettivo del Crotone e di altre squadre. E poi vediamo chi sul campo avrà più convinzione, più energia, più determinazione per portare avanti questo discorso qua. Sì, però sono quelle società, quelle squadre che gettano sempre le basi per costruire un impianto solido. Sicuramente è una squadra che esprime calcio, non vada solo a rompere e ripartire ma sa anche impostare. Quindi credo che può venire sicuramente una bella partita. La cosa importante quando ci si affronta con queste situazioni qua è chi sarà più bravo a rimantenere l'equilibrio, la compattezza pur non tralasciando e non abbandonando quello che è la sua filosofia di gioco, cioè giocare.